Hai mai sentito parlare delle recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi riguardo al mondo televisivo e ai cambiamenti che coinvolgono Mediaset e la Rai? Nel nostro video odierno, esploreremo le sorprendenti affermazioni di Pier Silvio Berlusconi riguardo al panorama televisivo italiano, con un focus particolare sulla transizione da Barbara D'Urso a Mirta Merlino a pomeriggio 5 e sulle dinamiche tra Mediaset e la Rai. Scopriremo anche perché il leader di Mediaset ha elogiato alcune nuove aggiunte al palinsesto, come Bianca Berlinguer e come ha difeso il corso del Grande Fratello. Un confronto avvincente tra due giganti televisivi. Immaginatevi nel mezzo di un'intensa discussione sul futuro della televisione in Italia, con dichiarazioni sorprendenti e scelte di programmazione audace. Pier Silvio Berlusconi si è lasciato andare a critiche e elogi che stanno facendo scalpore. Continuate a guardare per scoprire cosa c'è di così affascinante nelle sue parole. Se questa discussione vi sta appassionando, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, per non perdere gli aggiornamenti futuri. Pier Silvio Berlusconi, l'abile timoniere di casa Mediaset, ha deciso di gettare uno sguardo critico sulle ultime mosse della compagnia, soprattutto alla luce delle numerose rivoluzioni che hanno scosso il panorama televisivo. In primo piano, la transizione a pomeriggio 5, con Mirta Merlino, che ha preso il posto di Barbara D'Urso. La Didi Mediaset ha condiviso anche il suo parere sulla nuova direzione intrapresa dal grande fratello. Ma l'attenzione di Pier Silvio non si è fermata alla sua azienda, bensì si è spostata sulle vicende della RAI, dove ha sparato alcune frecciate ben mirate. Nonostante Silvio non abbia risparmiato commenti pungenti sul servizio pubblico di Stato, vediamo più nel dettaglio cosa ha rivelato sulle colonne del Corriere della Sera. L'amministratore delegato ha analizzato gli ascolti della nuova stagione televisiva in confronto all'anno precedente, evidenziando il rafforzamento di Mediaset. Questo successo ha alimentato la sua prima stoccata alla TV di Stato, sottolineando il divario tra la crescita di Mediaset e l'andamento altalenante della RAI, che sembrano riuscire a tenere il passo. Berlusconi ha persino sottolineato che la RAI sembra essere bloccata in una sorta di limbo da anni, mentre Mediaset ha fatto una svolta significativa dal 2020, dopo il periodo di emergenza legato al Covid-19. Il duro lavoro dell'azienda di Cologno ha finalmente iniziato a dare i suoi frutti, un esempio lampante di come le due reti possano essere a dir poco divergenti. Le parole pesanti di Pier Silvio suggeriscono che a volte ci si dimentichi che la RAI dovrebbe essere un servizio pubblico, un compito di cui Mediaset sembra essere più consapevole. Nonostante abbia affermato di evitare giudizi diretti, le sue parole parlano da sole. Ma la storia non finisce qui. L'ad di Mediaset sostiene che i problemi della RAI non sono imputabili alla nuova dirigenza, bensì sono radicati nel passato. Tuttavia, questa nuova guida ha l'opportunità di riportare la RAI al suo ruolo di servizio pubblico primario. Dopo questa riflessione sulla RAI, Pier Silvio Berlusconi si è soffermato sulle nuove aggiunte nel palinsesto di Mediaset, come Bianca Berlinguer con il suo programma Carta Bianca, che sta riscuotendo ottimi risultati di ascolto. Berlusconi è convinto che questa sia una vittoria meritata. Infine, Pier Silvio è rimasto soddisfatto del nuovo pomeriggio 5 sotto la guida di Mirta Merlino, anche se gli ascolti non sono stati eccezionali. L'ad di Mediaset ha difeso il tentativo di rendere il programma più serio e giornalistico rispetto al passato. Insomma, nonostante gli ascolti altalenanti, Mediaset si mostra fiduciosa e difende estrenuamente i propri programmi, da pomeriggio 5 al Grande Fratello. Cosa ne pensate di questo quadro? Vi ha sorpreso l'audacia di Pier Silvio Berlusconi contro la RAI? Non esitate a condividere le vostre opinioni e a mettere il vostro mi piace se questo testo vi ha appassionato. Credete che il futuro della televisione italiana sia nelle mani di Mediaset o della RAI? Vi aspettiamo nei commenti per una vivace discussione. Ora che abbiamo esplorato in dettaglio le opinioni di Pier Silvio Berlusconi, vogliamo sapere cosa pensate. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre informati sulle ultime notizie del mondo dello spettacolo. Lasciate un mi piace se avete apprezzato questo video e non dimenticate di condividere le vostre opinioni nei commenti sotto al video.